un saluto a tutti dal vostro Zedcastle bentornati al trono del re perché quest'atmosfera queste luci perché la storia che sto per raccontarvi oggi dovrebbe essere narrata al lume di candela vi ho abituato a fumetti di altissimo livello qui al trono del re ma la storia di oggi è veramente speciale ho fatto un po di domande su facebook al popolo di lega nerd per sapere qual è il personaggio preferito là fuori di tutti gli utenti di tutti gli ascoltatori follower del trono del re è stato un tripudio di risposte per il cavaliero oscuro di gotham batman è il più grande batman piace a tutti ed è per questo che sto per raccontarvi l'ultima storia di batman sigla fin dai tempi più antichi il trono di ogni regno ha avuto il proprio re molti re molti troni troni di spade troni vuoti troni senza paragoni fino ai giorni nostri fino al trono che rende re ognuno che ivi si segga per leggere i fumetti oh ma in che senso ultimo numero di batman cioè l'hanno finito non lo pubblicano più figuriamoci batman è immortale ragazzi è il personaggio più iconografico non solo nel panorama supereroistico ma addirittura di tutto quanto il mondo del fumetto batman è plausibile il caratter nato da bob kane e bill finger nel 1939 per tutti noi è stato moltissime cose è stato un vendicatore palpa alle origini è stato un detective molto poco fisico ma dotato di un sacco di gadget incredibili è stato un maestro una guida un guerriero è stato addirittura un fuggiasco e a volte un cacciatore è stato un figlio orfano e confuso ma è stato anche un padre adottivo e poi è diventato veramente un genitore batman è come noi ma diciamo migliore batman ci ha insegnato a cadere e a rialzarci sempre ci ha insegnato che un semplice uomo può compiere miracoli anche senza il mantello rosso e la tutina blu ma prima o poi come ogni uomo invecchierà come abbiamo visto nel ritorno del cavaliere oscuro di frank miller e prima o poi dovrà addirittura morire editorialmente lo sappiamo il personaggio non potrà mai morire e se anche lo facesse magari come è successo su batman rip di grant morrison un espediente narrativo ce lo riporterà noi magari con una super trama vincente un colpo di scena incredibile e qualcuno prima o poi dovrà raccontare la storia della morte di batman non pensate se questo fosse già successo la morte di batman la fine del mito della leggenda che consacra per sempre il più grande eroe di tutti i tempi ebbene tale onore è capitato a uno degli sceneggiatori più bravi al mondo ovvero neil gayman già autore dello straordinario sandman di marvel 1602 del rifacimento di eternals accompagnato ai disegni dal monumentale handy kubert che sicuramente avrete già conosciuto su wolverine origins cercherò di portarvi al centro della storia come sempre senza farvi spoiler senza rovinarvi il gusto il piacere della scoperta come tradizione qui al trono del re siete pronti perché non si può assistere al generale di batman una macchina particolarmente lussuosa sfreccia tra i vicoli in un quartiere abbastanza fatiscente e si ferma all'improvviso noi lo conosciamo questo quartiere sì decisamente sì sì è crime alley il luogo dove tutto ha avuto inizio ma non è così veramente o meglio non lo è più da tanti anni una splendida donna esce dall'auto e con una grazia veramente felina si appropinqua verso l'entrata di una specie di bar di locanda il ragazzo all'entrata si offre di tenerle d'occhio l'auto per un misero dollaro ma l'elegantissima donna gli sorride e gli dice guarda ho già chi sta facendo la guardia la mia auto il ragazzo si gira e vede un sacco di gatti che cominciano a circondare l'autovettura si tratta di selina kyle catwoman ma quegli abiti quella conciatura così vintage ma sembra essere veramente fuori dal tempo e c'è una voce narrante proprio a fianco a noi che osserva la cosa la sta osservando come se fosse seduta vicino a noi all'interno dello sgangheratissimo bar vediamo un bancone è un vecchio che sta lucidando dei bicchieri sono passati tanti anni ma quegli occhi si riconoscerebbero ovunque è joe chill l'assassino dei genitori di bruce wayne dice che deve accogliere gli ospiti joe chill ma non era morto alfred irremovibilmente austero nel suo aplomb particolarmente inglese accoglie selina kyle sì la bellissima selina non se lo sarebbe persa per nulla al mondo le sedie sono ordinate il rinfresco è servito gli ospiti stanno arrivando e in fondo alla sala si vede una bara aperta e per la prima volta in assoluto all'interno di quella bara aperta vediamo un corpo sì il corpo di batman pian piano arrivano tutti due facce pinguino jervis teach joker e harley queen il commissario gordon e la figlia barbara ancora sulla sedia a rotelle ma com'è possibile barbara è batgirl sono passati tanti anni da the killing joke barbara ha ricominciato a camminare aspetta ma che ci fanno dick grayson rasal ghul mister freeze il tenente harvey bullock con montoglia tutti insieme nella stessa stanza senza che si scateni il finimondo possibile che il cavaliere oscuro sia veramente morto e che tutti amici e nemici per una volta abbiano messo da parte le passate rivalità per tributare la caduta di un grande eroe di un grande rivale tutti prendono posto perché un funerale non è tale senza un discorso di incommiato e la prima a prendere la parola è proprio selena kyle la storia di catwoman catwoman racconta di come ha conosciuto batman degli inizi del loro travagliato rapporto di come si siano rincorsi per anni in un continuo guardie ladri un misto tra rivalità e attrazione ma è tutto strano è come se fosse un misto di tanti tanti ricordi cioè vediamo addirittura catwoman con dei costumi diversi prima con la testa di gatto poi nel costume che conosciamo tanto caro della versione anni 60 selena ci racconta di come è morto batman sì lei lo ha visto morire anzi lei lo ha lasciato morire batman entrato roccambolescamente all'interno del negozio che gestiva selena è ferito è ferito molto gravemente e in questo ricordo selena ci racconta di come lo abbia ammanettato al divano e l'abbia lasciato morire lentamente proprio perché non poteva più sopportare allo strazio di saperlo fuori sui tetti a combattere la criminalità e non sapere mai se sarebbe tornato vivo o morto quindi a questo punto meglio perderlo per sempre vi ricordate della voce narrante che era seduta giusto a fianco a noi ebbene riprende la parola ha osservato tutto questo ma non capisce non può essere possibile dice che questa cosa non è mai avvenuta veramente e allora capiamo la voce che abbiamo al nostro fianco è quella di bruce wayne è il suo spirito come se stesse osservando tutta la vicenda in una sorta di esperienza extracorporea un'esperienza di premorte e non solo c'è un'altra presenza che osserva la scena ma chi è in successione ogni partecipante al funerale prende la parola e racconta una versione diversa su quella che è stata la morte di batman tutte verosimili tutte estremamente plausibili eppure tutte scollegate l'una dall'altra com'è possibile questo non riusciamo a capire qual è quella vera robin due facce rasal gul il terribile racconto di alfred che ci svela la verità dietro al joker la storia stessa di joker superman bruce si chiede cosa stia accadendo e la voce al suo fianco gli dice bruce sei il detective più grande al mondo scoprilo da te e lui lo farà attraversando in un unico grande flusso oltre 75 anni di storia editoriale batman sta veramente per morire o forse già morto e questo sembra essere una sorta di anticamera dell'aldilà ma che al di là ci può essere per il cavaliere oscuro inferno paradiso qual è il premio per essere stato batman io vi giuro non vorrei aggiungere altro se sono bravo come mi state dicendo nelle reazioni sotto i video dovrei avervi già convinto questa è l'ultima storia di batman vi dico che questa coppia geniale attraverso i testi attraverso i disegni ha veramente tributato tutta l'intera storia editoriale di batman in un unico piccolo volume c'è tutta la vita del pipistrello qui dentro dagli esordi di bob cane al batman di neil adams dalla versione seriale con adam west fino alle versioni più moderne ad esempio di arkham asylum addirittura l'uomo dentro la bara in alcune pagine assomiglia al batman di frank miller in altre assomiglia al batman di carmine infantino addirittura troviamo quella di team sale del lungo halloween tutte le versioni di batman sono rappresentate alan grant jim lee carmine infantino bolland mazzucchelli ci sono tutti e poi il gran finale la soluzione dell'ultimo enigma per il più grande detective del mondo pelle d'oca e brividi veri qualsiasi cosa accadrà nell'universo editoriale di batman questa resterà per sempre l'ultima storia di batman l'ultimo numero ma vi rendete conto di che onore può essere per un fumettista per uno sceneggiatore scrivere una storia di tali proporzioni a differenza di che cos'è successo all'uomo del domani di alan moore che segnava la fine di un'epoca d'oro di una golden age per superman neil gaiman non si limita ad omaggiare tributare un determinato periodo no neil gaiman tributa ben sette decadi in un unico volume e davvero andy kubert in questa graphic novel fa dei miracoli l'evoluzione di tutte le tavole dagli schizzi alle matite alle chine è qualcosa di veramente pazzesco troverete tributi grafici e segni distintivi di ogni singolo disegnatore che ha lasciato il segno con il cavaliere oscuro un lavoro monumentale io adoro batman a volte mi riconosco talmente tanto in lui che in certe situazioni della vita della quotidianità mi chiedo cosa farebbe batman al posto mio il fumetto per me va oltre il puro intrattenimento e se state guardando questo video scommetto che un po la pensate così anche voi ho amato e amerò per sempre il ritorno del cavaliere oscuro così come ho amato the killing joke così come amo il lungo halloween o batman anno 1 ma emotivamente parlando credo che che cos'è successo al cavaliere oscuro sia la storia più bella di batman mai scritta sì è personale è una cosa istintiva in ogni qualsiasi caso questo numero non può mancare alla vostra collezione ai vostri figli racconterete tutta la grande leggenda di batman e gli direte che un giorno potranno leggere l'ultimo numero del cavaliere oscuro quando saranno pronti vi pare poco io vi do appuntamento alla prossima puntata del trono del re continuate a lasciare like sulla pagina zettone zcastle commentate venite a trovarmi al giovedì sulla diretta che facciamo dalle ore 19 in poi su lega nerd mi raccomando continuate a viaggiare con il vostro z ci vediamo in giro ragazzi un saluto dal vostro zett castol yeah